Ciao ragazzi, faccio il Craco 55 di Nara, Yaku 34 Allora, ho deciso che non faremo il solo quest con Kiryu Quindi faremo questa cosa di Saegu Che è quel tizio di Akiyama E facciamo Komaki perché aumenta il danno di Kiryu Allora, prendi questo Prendi, prendi il coin locker qua sopra Ok E dopo finiremo il gioco Ok, allora, uomo, parliamo Sì Voglio, eh Dobbiamo far tutto in realtà Perfetto, mi piace quando Non perdono tempo Ok Bevo un attimo Ok Va bene Adesso curiamo Ok Va bene Uff Dai, dai, dai Sì, sì No, no Sì, sono pronto, sono pronto Dai, dai, corriamo Dobbiamo correre Dai, dai In realtà abbiamo meno Abbiamo, cioè In realtà basta non fare cazzate Perché abbiamo più stamina di lui in realtà Quindi, vabbè Tira In realtà sta roba è semplicissima più che altro Questa roba è semplicissima più che altro Questa roba è semplicissima più che altro Quick time event Perfetto Vai, dai, dai Tira Liscio proprio Liscissimo Aspetta Tira le Allora, vaffanculo, va Dai, vieni qui Dai, non Non, non Perché mi devo fare Tutta sta roba Mi sa che ho già finito le bottiglie Mi sa Vabbè, senti Finalmente Ti è Ok, perfetto Ma sa, perché tanto abbiamo più stamina di lui Quindi, sti cazzi Ma abbiamo fatto mai un insicumento con Akiyama? Non mi sembra in realtà Ok Molto semplice Semplicissima Guarda, quasi fin troppo facile Bene Sì, sì Sì Double dash kick Ok Double dash kick Fammi vedere un attimo Come funziona Ehm Cycle abilities Ah, ok Qua è running Va bene Sì Suicide a running Vuol dire che ci E' lui che ci rincorre Però facciamo Facciamo le cose fatte in buon ordine Adesso spariamo Ok Sì, sì Dai, dai, dai Se ci trovate in muri Ci fa il culo Però ok Ah, devo sparare gli stronzi Ok Aia 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 E vabbè Ultima che C'ho un sacco di cura Almeno Comunque c'ho C'ho le pistole infinita C'ho Quindi non è nemmeno tanto difficile In realtà Aia C'è E' quanto irritante Però posso dirlo Non possiamo avvicinarmi Più di tanto In realtà E' fastidio che però C'è l'auto aim Aia Dai Mori Spara così Così non ci interrompe nessuno Perfetto Noi così si fanno sparare Tranquillamente Tanto Una pistola con Pugliettili di gomma S'hai visto Dai Mori Non mi sembra Sia tanto una pistola finta In realtà C'hanno sangue addosso Vabbè Sì Ho stato imperato Un insetto Slash Kick Alpha Ok Ok ma se la sigarfa è Quello Il colpo Tipo Quelli di Capital Falcon Aspetta No Come abilità Y Sì Quello è Sì È quello di Capital Falcon Sì Sono prontissimo Voglio combattere Voglio combattere Combat Ha una pistola Mi sparerà addosso Che bello Che bello Che bellissimo Sicuramente avrà super armor Secondo me avrà super armor Oh 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 Ah no Non ha super armor Vabbè Vanno ora Dai perché non mi ricordo Non mi ricordo più Le combo di Yakiama Sinceramente Eh va bene È quello di uno Slash Kick Aia Aia Cioè devo far così Mi ricordo ancora Le combo di Yakiama Tipo Mille anni Che non lo gioco Yakiama Aia Devo stare attento Non morirci Soprattutto Tanto qui Sono pieno di cure Mettiamo Questo qui Ok Eh vabbè Posso grabarlo? Proviamo Fatti grabare un attimo No Non posso grabarlo Ok Insomma Quindi In 2010 Mi devo comprare Delle arme Insomma Ci starebbe pure In realtà Picchia picchia Picchialo mamma mia Le palle Ok Aia Mi promette che mi dovrò comprare Delle arme Ma che ho 3 milioni Quindi non sono un problema Però mamma mia Bene Ti è passato Ok Ma non mi ha dato niente Vabbè Mi curo di nuovo Mettiamo questo Però ripeto Ho paura che Mi darà tanti problemi Sì 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 Facciamo Facciamo questo Tanto ve lo Ve lo ucciso Sicuramente Perché devo aspettare Che 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 Si esaustano qui Ok va bene Ok Runaway Passi se farai 5 giri Senza Andare fuori energia Ok Ok Sì sì Sono prontissimo Ok Ok È stato difficile Comunque È mortale sua È stato molto difficile Che cavolo Bisogna fare In maniera proprio Specifica Se no morivi male Ok Sì vabbè Il blue dash kick Perfetto Mi devo curare No Ok vai Sì 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 Fa il mio training Suicida il shooting Questa sarà una bestemmia gigante Perché ti devi far sparare Eh Devi fare un minuto Non posso staccare Sei pronto Sì Eh vabbè In alto Speed up Dai cazzo Bisogna Come faccio Come si fa Bisogna fare così Per forza Dai Grazie Eh sì Sì ok Un meteorite è caduto Ok Beta Una domanda Spero Si è interessato a me Ok Non abbiamo finito mai Mamma mia Che stress Allora Posso fare l'ultimo Oh è vietato Ah vi è suscita il combat Oddio santo Va bene Quindi avranno tutti le armi Sì Mamma mia Sì sono pronto Dovrò rifarmi Ok Dovrò rifarmi tutto quanto Rifarmi Riprendimi tutti i stamina Ok Ok Sì Vabbè Bene Guarda bene Finalmente Finalmente Guarda È stata una tortura Ragazzi Perché ci sei una roba del genere Picchialo Devi picchiarlo Picchialo Picchialo Non mi interessa Eh come si si sente stare nell'angolo Eh Come è che ci si sente Pezzo di merda Eh come è che ci si sente stare nell'angolo Ma guarda te Faccia da culo Eh Come è come Cioè Adesso Chi è che ride Eh va a fanculo Sì 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 Quanto sei Io sei Come ti senti Non male Ah 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 Yes Grazie Ok dimmi Ok Ok Sì Va bene Ok Ok Perchè si? Perchè io? Ti ricordi io se il ragazzo era selvato? Claudio si Oh no adesso è morta Va bene lasciamo perdere Si? Fai dei crediti Dimmi... Cioè? Spero che il mio allenamento fosse abbastanza a bagare il conto Tu sei uno dei miei clienti Non posso dirlo Quanto è speso? È colpo di Mao è troppo più carina Che cosa stupida! Che cosa stupida! L'abbiamo fatto o no? Ragazzi ma che cazzo sto... Vabbè comunque per questo momento di Yamza 3 abbiamo... Si Yamza 3 Yamza 4 è concluso Se vi è giusto non mi piace Comunque dai scriviti ci vediamo al prossimo video Ok adesso facciamo Komaki con Kiryu E dopo siamo... dopo abbiamo finito